Melissa Satta Melissa Satta, le soft vaves conquistano anche lei Una meravigliosa Melissa Satta sfoggia le sue soft vaves su Instagram, la bellissima mamma di Maddox ha deciso per un cambio look molto luminoso e si è affidata, come sempre, ai suoi artisti list di fiducia. Come vi sembra la sua acconciatura?. . Melissa Satta, soft vaves anche per lei. Impazza ancora il trend dellestate 2017, anche Melissa Satta si lascia conquistare dalle soft vaves, ovvero da leggere e naturalissime onde sui capelli che danno dinamicità e volume alla chioma. . . Soprattutto perché li ha molto lisci, le soft vaves appaiono come una soluzione perfetta per dare movimento ai capelli senza usare con tocchi troppo invasivi o che vadano a sfibrarli, come permanenti e semi permanenti. . 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 Dovrebbe stupire, visto che la bellissima 31enne è stata una calciatrice professionista nella sua adolescenza. Un altro ricordo da Summer Vibes? Sicuramente la Corsica e il Vakeboard, uno sport che consiste nella fusione tra lo scinautico e lo snowboard. Infine, i momenti di relax in sexy bikini in Sardegna, nella casa di famiglia, insomma, di via i ricordi da conservare nel cuore e nella testa, o forse dovremmo dire sulla testa, viste le Summer Soft Vaves, Melissa ne ha davvero tanti. Ciao!